Parte piano il 7 di Resmila, Roger Rabbit in pratica non partecipa, macchina avanciata, con Reptil che cerca di... Numero 5, Rumba va squalificato, numero 12, Royal Del Sile squalificato. Dopo 250 metri, Reptil e Marco Castaldi assumono l'iniziativa davanti al Ren di Mamola Chiù, all'esterno rimane Rapid Rock che avanza subito a chiedere strada e sembra poterlo ottenere in breve tempo. Numero 11, Re di Rodi squalificato. Il profila in vantaggio, squalificato Re di Rodi nelle retrovie per errore e dopo 450 metri, Filippo Rocca porta al comando Rapid Rock con 400 metri iniziali in 35, guida davanti al Reptil e al Ren di Mamola Chiù. Mentre all'esterno avanza il numero 10 di Ricorda Lagna Fa, seguito da Regina De Greppi e Recuerdo. 46.1 i primi 600 metri, curva del caffè, 900 metri alla conclusione. Con Ricorda Lagna Fa e Gustavo Matarazzo che vanno all'inseguimento del Battistrada Rapid Rock che passa in 1.02.3 i primi 800 metri. Arriva all'attacco della retta dell'aeroporto, vero di fronte all'arrivo in vantaggio. Rapid si prepara a completare il primo chilometro da Battistrada. All'esterno Ricorda Lagna Fa e nella scia Reptile e Ren di Mamola Chiù. Chilometri iniziali in 17.7. Rapid e Filippo Rocca in vantaggio. Bene, il duo della Sante Eusebio con Ricorda Lagna Fa all'esterno. Per le vie brevi rimane Reptile così. Ren di Mamola Chiù. Cavalli all'inizio della piegata conclusiva. Con Ren di Mamola che si è spostato all'esterno. Ha lasciato di dentro l'otto di Raibon. Raibon e prova a seguire l'avanzata di Ricorda Lagna Fa. Mentre Rapid e Rocca sta cercando l'allungo conclusivo che pare essere allungo vincente. Rapid affronta l'addirittura in chiaro vantaggio. Ren di Mamola viene al centro pista fortissimo ma è troppo tardi perché Filippo ha fatto bene i suoi conti. Filippo Rocca e Rapid Rocca facili. Una categoria avanti a tutti. Mentre nella volta per il secondo posto terminano sulla stessa linea dell'esterno. L'uno di Ren di Mamola Chiù e il dieci di Ricorda Lagna Fa. 17-1 per Rapid Rocca. I colori della Santa Eusebio. Il trenc di Giorgio Carini. Filippo Rocca in cabina di regia. Quindi come mi dice il giudice d'arrivo mi conferma la vittoria di Rapid Rocca. Il quattro al primo posto. E per il secondo posto foto fra il dieci di Ricorda Lagna Fa e l'uno di Ren di Mamola Chiù. Poi quarto il sei di Reptive e quinto l'otto di Ray Bon. Quindi vince Rapid Rocca con Filippo Rocca. Ricorda l'anni a fa numero dieci dello schieramento e Ren di Mamola numero uno dello schieramento. In foto per la seconda e la terza moneta. E fotografia da parte del giudice. Questo è quanto per quest'oggi.